Costruito prima del 1100, apparteneva al regno di Arborea e aveva l'importante funzione di roccaforte di confine. Proprio nel 1172 venne ceduto impegno alla Repubblica di Genova. Venne più volte ristrutturato e l'intervento più significativo risale all'epoca del re Mariano IV, alla fine del 200. Durante tutta la guerra tra il regno di Arborea, a cui apparteneva, e il regno di Sardegna assunse un ruolo strategico di primaria importanza. Come conseguenza della sconfitta del regno d'Arborea nella battaglia di San Luri nel 1409, entrò a far parte definitivamente dei domini aragonesi e mantenne la sua funzione. Quando il regno d'Aragona subentrò il regno di Spagna, il castello non servì più e venne abbandonato. vero 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 Grazie.